Nuovi sviluppi sulla detenzione di Michael Alessandrini, trentenne pesarese, omicida e reconfesso dell'uccisione a coltellate di Pierpaolo Panzieri lo scorso 20 febbraio. Un delitto che avvenne al termine di una cena in casa della vittima in Via Gavelli, in pieno centro storico pesarese. Dopo la perizia psichiatrica che lo scorso 8 settembre ha dichiarato la semi-infermità mentale dell'arrestato, il giudice ha mantenuto Alessandrini in carcere senza prevedere quella possibilità di reclusione in una Rams che avrebbe potuto far presupporre un'eventuale dichiarazione di totale incapacità di intendere di volere. Carcere che nel frattempo è diventato quello di Villa Fastigi e non più quello di Ascoli Piceno, dove Alessandrini aveva vissuto i primi mesi di reclusione. Villa Fastigi che l'avvocato difensore Salvatore Asole reputa però una struttura non compatibile alle esigenze di salute mentale del suo assistito che, a quanto si apprende, sta pure rifiutando il trattamento terapeutico. Nei giorni scorsi però la documentazione arrivata dal carcere ha portato il G. Pantonella Marrone a chiedere un'integrazione della perizia precedentemente eseguita. Non ci sarà nessuna visita aggiuntiva ma un supplemento di indagine sulla base dei documenti prodotti dalla direzione del carcere. A metà dicembre è attesa la risposta ulteriore sul mantenimento o meno in carcere di Alessandrini o su un eventuale dietrofronte verso altra struttura reputata più idonea.